Ciao a tutti, oggi mi trovo in provincia di Venezia per un'iniziativa contro la contraffazione, anche io aderisco all'iniziativa di Facebook Fall of the Wall 2014, i 25 anni dalla caduta del muro di Berlino. Il 9 novembre del 1989 io avevo tre anni, quindi non ricordo i fatti della caduta del muro, ma ricordo bene che cosa è successo dopo. La Germania dell'Ovest decise di aiutare la Germania dell'Est, di colmare i debiti, di farla risollevare per poter ripartire tutta insieme come nazione. Ebbene, questi fatti ci sono molto utili per leggere il presente dell'Europa, il presente, il 2014, dove ci sono paesi in Europa che hanno una grandissima disoccupazione, inclusa l'Italia, con grandi problemi economici e una Germania che sembra non interessarsene, pensando solo all'austerity e pensando solo a se stessa. La gente che si abbracciava sul muro di Berlino il 9 novembre, non si vedevano da anni dopo la caduta, sono quella comunità, quel senso di comunità che ci deve servire oggi a risollevarci tutti insieme. Non ci serve un'Europa delle banche, dello spread e della finanza, ci serve un'Europa come comunità, come quelle persone che si abbracciavano il giorno dopo la caduta del muro. Ciao a tutti!